Porca vacca, il signor Paone si era alzato e lui dietro... Vai, vai, vai! Aspetta un secondo, ci sono anche delle cose... Non capisci niente, amico? Cioè, sei proprio dieci anni dietro. Ci sono anche delle cose diverse, no? No, chiedo scusa. No, nel senso che lui ha fatto una politica... Intanto dopo questa non si durano, me ne vado. Ok, chiacchierete le cose. Aspetta, no, diciamo però una cosa, perché non è sbagliato anche per passare... Ah, belli, siamo nel 2000, il fatto che ancora... Ci sono accorti che la televisione è un compromesso. Ci sono due cose diverse. Scusate un secondo. Guardate che sono una platea così mi poteva fischiarla. Questo è offendere le persone che sono qua e che hanno contribuito a una cosa che è oltretutto di solidarietà e quindi è sbagliato. Chiariamo delle cose. Alessandro, se anche i paure non ce l'ha con te, non ce l'ha con i ragazzi del grande modello. Non gli interessa. Ce l'ha col fatto che sia all'interno di una categoria dove, peraltro, lui da anni fa qualcosa. Maria, noi eravamo dieci persone messe qua. Il premio era il nostro. Non era contro di te. Non era contro di te. Vabbè, dai. Non era contro di te. Parliamo di cose seri. Ora rimando lì su te, l'ha un'altra mezz'ora così. Non era contro di te. Non era contro di te. Era difendere il suo lavoro, che è una cosa diversa. Non era contro di te, non era contro i ragazzi del grande modello, non era contro chi l'ha condotto. Io premio, sono qui per premare con la velocità di quelli là. Dopo questa piccola precisazione di Taricone, io sentirei la premiazione, la trasmissione dell'anno. È una trasmissione fortissima, sono contento. Allora, la trasmissione dell'anno, eh, striscia la notizia. Ridirlo bene Antonio Ricci, Ezio Greggio, Ezio Giacchetti, Luca Laurenti.